care teste fiorite buon venerdì oggi parliamo di fiaba e favola queste due parole questi due tipologie di testi narrativi di testi letterari che spesso si sovrappongono mi capita spesso di sentire usare le due parole ea volte mi confondo anch'io nella fretta come se avessero lo stesso significato è ovviamente così non è la fiaba viene da una tradizione orale lunga di secoli quando non di più e ha delle sue strutture predefinite le cosiddette funzioni di prof sono stati per primi formalisti russi che hanno determinato tutte le funzioni tipiche ricorrenti della fiaba ci sono anche delle fiabe moderne ma comunque il loro gioco è quello di basarsi su queste funzioni quindi c'è il protagonista l'antagonista l'aiutante del protagonista e l'avventura il viaggio del protagonista le tre prove classiche via dicendo la favola tutta un'altra storia la favola ha un'origine che potremmo dire tra virgolette artificiale nel senso che non deriva da una narrazione orale ma viene creata e al sempre uno scopo esemplificativo pedagogico anche quando magari poteva essere rivolta nei tempi passati non ai bambini ma gli adulti cioè la favola una morale pensate alle favole di esopo alle favole di la fontaine sono sempre narrazioni che hanno quasi sempre animali come protagonisti ma che mettono in scena in maniera stereotipata è comunque esemplificativa dei tratti del carattere umano allo scopo di creare delle situazioni topiche delle situazioni esemplari che poi facciano portino ad una morale ecco la fiaba non non porta una morale generalmente mette in scena però delle situazioni che possono essere più o meno realistiche in cui quasi sempre rientra l'aspetto magico che quello che i greci forse avrebbero chiamato il deus ex machina c'è a un certo punto interviene qualcosa che scioglie la situazione che nel caso delle fiabe è la magia e perché poi queste situazioni si risolvano sempre in maniera positiva la cosa per al particolare della fiaba è che in realtà non si sovverte mai un ordine prestabilito soprattutto un ordine sociale tantissimi critici sociologici della branca della sociologia della critica sociologica letteraria hanno sostenuto che la fiaba è una struttura chiusa e fin qua siamo abbastanza d'accordo ma è una struttura che non sovverte il sistema in quanto anche quando abbiamo delle favole in cui chi è il poverino scusate delle fiabe che il poverino poi diventa il principio la principessa insomma fa un passaggio notevolissimo di grado sociale in realtà non lo fa questo passaggio c'è un passaggio di scoprimento di qualcosa che era successo prima di malefico che aveva impedito un riconoscimento immediato del principio della principessa ma mai un'elevazione sociale reale per cui almeno questo diciamo nelle fiabe classiche le fiabe diciamo che non vengono definite classiche sono per esempio quelle di anderson anderson le scriveva lui e per il suo tempo erano fiabe contemporanee cioè non venivano da un patrimonio orale probabilmente lui rielaborava dei testi orali ma li rielaborava dentro di sé poi tirava fuori delle cose delle narrazioni completamente originali pensate alla piccola fiammiferaia ma ai fiori della piccola ida che appena uscito in quell'edizione magnifica per edizioni corsare di daniela iridemurgia quindi diciamo che la fiaba e la favola si differenziano sostanzialmente per queste due cose la fiaba non ha la morale ha sempre l'elemento magico la favola non ha mai un elemento magico ha sempre una morale i protagonisti sono quasi sempre animali che mettono in scena delle categorie umane stereotipate ecco cosa succede cosa facciamo noi delle fiabe delle favole tendiamo a raccontarle ai bambini a me capita spessissimo e la cosa mi fa devo dire abbastanza un po nervosire quando dico mi occupo di libri per bambini e dicono ah ma racconti racconti le fiabe ma anche no peraltro io non ho un legame proprio profondo con le fiabe le le conosco le ho studiate me le ricordo da bambina ma non è la mia passione insomma la fiaba anzi però evidentemente a questa cosa della fiaba a cui si sovrappone poi nel tempo una un'idea sulla favola che dovrebbe come dire un po arrivare a coincidere secondo un'ottica assolutamente divulgativa ma senza priva di di fondamento dicevo questa cosa della fiaba evidentemente viene fatta coincidere con l'età dell'infanzia allora su questa cosa vorrei darvi qualche spunto perché con le fiabe si è giocato tantissimo si è giocato di più con le fiabe che con le favole perché effettivamente il nostro patrimonio un patrimonio di fiabe più che di favole perché se pensiamo a cappuccetto rosso e tre porcellini cappuccetto rosso secondo me forse la più conosciuta la più utilizzata del nostro patrimonio culturale come fiaba ci rendiamo conto che effettivamente queste sono la nostra base culturale su questa si è costruita una letteratura che parte da lì e la rielabora naturalmente ci possono venire in mente subito le favole al rovescio di rodari in questo caso interessante vedere che rodari utilizza il termine favola ma spessissimo mette al rovescio le fiabe facendo anche lui questo gioco perché lui cosa fa rovescia le favole perché cambino di morale e quindi in qualche modo anche se non ce l'avevano prima esplicitata ce l'hanno sempre sottesa ma non così esplicitata come nella favola effettivamente anche se rovescio diventano delle piccole favole per cui invece di avere cappuccetto rosso perseguita perseguitata e mangiata dal lupo abbiamo cappuccetto rosso che rincorre il lupo e via dicendo questo è un procedimento interessantissimo molto molto moderno che permette cioè che ci fa vedere quanto sia maturato il nostro rapporto nei confronti di questo che potremmo definire forse genere letterario però bisogna stare un po attenti perché siccome le fiabe nascono dal profondo della nostra cultura e vengono appunto da queste narrazioni orali lontane e raccontano di situazioni ancestrali e mettono in scena in maniera assolutamente metaforica ma mettono in scena dei passaggi fondamentali della nostra vita di esseri umani bisogna che i bambini siano pronti a poterle mettere sotto sopra a superare la paura che provocano spessissimo e via dicendo quindi quali sono le due indicazioni che mi sento assolutamente di dare rispetto all'uso delle fiabe con i bambini uno essere pronti a sovvertirle a giocare a proporne di centomila modelli alternativi a partire dalla stessa fiaba quando il bambino è pronto cioè quando ha introiettato e assorbito quella cosa e ci si può andare oltre due ancora più importante non fornire versioni di fiabe edulcorate perché non funzionano le fiabe hanno quella struttura perché attraverso di esse deve passare l'angoscia deve passare la paura bisogna farla sperimentare i bambini siccome non per fortuna non siamo messi in situazioni tale da far sperimentare i nostri figli così comunemente insomma degli elementi di paura o delle situazioni di forte angoscia attraverso le fiabe questa cosa riusciamo a farla senza voler peraltro entrare in quell'ambito dove entra molto approfonditamente per esempio bet line dell'analisi psicoanalitica delle fiabe per cui appunto lì ci sarebbero degli altri risvolti che ci svelerebbero quanto e come fondamentale utilizzare delle versioni non edulcorate delle fiabe tanto i bambini certo che hanno paura ma non è che se noi non gli raccontiamo la fiaba non hanno paura la fiaba permette di tirar fuori una paura che dentro c'è e che quindi a partire da lì possiamo farla uscire guardarla in faccia e piano piano a cercare di elaborarla allora vi propongo innanzitutto delle scritture di fiabe tra virgolette classiche cioè non manipolate dopo invece vi propongo dei libri che invece hanno giocato sul modello delle fiabe sulla favola appunto lavoriamo molto meno anche se vi faccio presente che è uscito un albo bellissimo dedicata alla favola della volpe del corvo è uscita per orecchio cerbo non ce l'ho qui sotto mano ma magari vi ci dedico mi ci dedico un'altra volta allora per le favole tra virgolette classiche in versione appunto non edulcorata non può mancare come primo riferimento di tutti noi la versione dei delle fiabe sonore qua la piccola guardiana doc ma ce ne abbiamo tantissime naturalmente qui cosa abbiamo delle illustrazioni che dicono tutta la loro tutto il loro essere passate in qualche modo tutta la loro sono datate insomma in qualche modo non sono interpretative sono molto più decorative un'altra idea di un'altra epoca però sono raccontate così bene peraltro la sceneggiatura costruita sulle fiabe di mi pare saverio piso è davvero eccezionale tra l'ironia che c'è dentro e la costruzione narrativa assolutamente restano dei capisaldi che non si toccano poi vi propongo questo albo che racconto una fiaba scusate sì una fiaba che fa diciamo non proprio parte del nostro patrimonio nazionale perché molto legata invece alla sicilia il mistero di cola pesce questa è l'edizione di arte bambini illustrata da daniele ieri da morgia questo in realtà è una fiaba ma è anche un racconto escatologico cioè un racconto che spiega l'origine di qualcosa poi vi faccio vedere questa versione della fiaba di cenerentola che mi piace tantissimo è scritta in un italiano molto particolare perché è la versione scritta da carlo collodi e in questo caso edito alla margherita le illustrazioni sono di roberto innocenti e il colpo di genio di innocenti e quello di ambientare cenerentola proprio la classicissima negli anni venti quindi tutto è trasposto in un'altra epoca questa è esattamente la versione originale di cenerentola trascritta nell'italiano ottocentesco di collodi e illustrata magnificamente da innocenti questa è una versione invece di ansele gretel edita da orecchia cerbo rivista scritta da neil gaiman appunto che è un genio del del romanzo per ragazzi tra l'horror e l'avventuroso e il noir è illustrata da lorenzo mattotti in effetti ansele gretel è una delle fiabe che può fare più paura giustamente si rifà peraltro a degli elementi storici che noi non abbiamo più ma totti gioca tutto sul bianco e sul nero quindi dalle doppie pagine completamente scritte si alternano queste doppie tavole assolutamente angoscianti almeno tanto quanto il testo invece veniamo a qualche favola scusate qualche fiaba che non fa parte del nostro panorama condiviso diciamo del nostro panorama culturale condiviso ma che è molto interessante conoscere uno perché sono bellissime ce le leggiamo volentieri ma poi anche perché ci renderemo conto che appunto la fiaba rifacendosi ad un patrimonio culturale dell'umanità condiviso derivante dalla sua natura orale a queste strutture narrative che si ripetono e che si ripetono identiche in ogni parte del mondo per cui quando prendiamo in mano una raccolta di fiabe di altri paesi del mondo questa cosa ci scappa subito all'occhio nel senso che ritroveremo le nostre fiabe in nuove versioni e per raccontare queste fiabe qua ma a me piace moltissimo la collana sempre scritta tutta scritta da luigi dal cin edita da panini ogni volta accompagnata da illustrazioni di grandi illustratori diversi e la collana legata alla mostra internazionale d'illustrazione di sarmede che ogni anno ospita un paese diverso questo sulle ali del condor e sono riprende le fiabe sudamericane e poi abbiamo questo il canto delle scogliere le fiabe leggente dalla scozia molto bella poi ci sono quelli dei paesi del nord del dei paesi orientali ce ne sono tantissimi questa collana è piuttosto lunga questo il primo anno in cui non è uscito un volume appunto di questa collana e ci dispiace moltissimo però è un patrimonio importante si può leggere se ne può leggere uno al giorno non è necessario come tutte le fiabe sono abbastanza corte si possono raccontare si possono ascoltare e poi vi dico per curiosità che queste fiabe di riscritte da luigi dal cin si trovano anche in versione audio su radiomagica che è una interessante esperti esperimento di radio per bambini che va in onda soltanto digitale adesso vi propongo invece 23 proposte invece che giocano su sui cliché della fiaba e non solo sui cliché giocano sul fatto di poter far conto su un patrimonio culturale condiviso che i bambini hanno già condiviso perché quando arrivano intorno ai 5 6 7 anni già hanno un piccolo loro patrimonio legato alla fiaba su cui si può già cominciare a giocare allora questo è uscito da pochissimo e di mario ramos ora ma non so mai come si pronuncia si chiama attenzione passaggio fiabe è un silent book cioè un libro senza parole e la cosa bellissima è che questa bambina che assomiglia un po a riccioli d'oro un po assomiglia cappuccetto rosso ma non al cappuccetto la mamma la salute quando entra nel bosco incontra man mano tutti i personaggi delle fiabe attenzione tre orsi e passano i tre orsi poi attenzione a pollicino e l'attenzione al principe azzurro e via dicendo finché arriva naturalmente l'attenzione lupo il lupo su cui ramo giura gioca tantissimo da sono il più bello a sono il più forte anche il più furbo curate il più furbo eccolo qua è sempre lui il lupo di ramo che suscita ilarità e simpatia oltremisura e eccola qua e la bambina poi attenzione attenzione perché c'è anche un passaggio nonna come dire state attenti anche alle nonne dove finalmente arriva però se ne salva a casa è una rilettura è un passaggio fiabe non solo perché la bambina si ferma per stare a fare attenzione a tutti i personaggi delle fiabe che passano ma anche perché noi prestiamo attenzione a tutte le fiabe che incontra un altro autore che gioca tantissimo su sul riprendere le fiabe che conosciamo meglio condivise e che le ripropone sempre un po nascoste facendo un gioco molto particolare è anthony brown soprattutto in questo albo magnifico che nel bosco in cui ancora una volta la base e cappuccetto rosso questa volta però il bambino e maschio entra nel bosco lui colorato ma entra nel bosco che tutto in bianco e nero e dentro il bosco che fa molta paura a vedersi comincia a incontrare dei personaggi innanzitutto incontra questo che dovrebbe essere il personaggio del fagiolo magico poi incontra questa qui che riceli d'oro ma se ci mettessimo a guardare bene le tavole vedremmo che in fondo tutte le tavole contengono moltissimi altri dettagli di altre favole che non vengono di altre fiabe che non vengono nominate direttamente questi sono ansele gretel e poi succede una cosa eccezionale il bambino si spaventa sempre di più da un certo punto gli viene freddo per la paura e trova un cappuccino un cappuccino fatalità rosso con un cappuccio e arriva finalmente a casa della nonna e la storia non è la storia cappuccetto rosso le le fiabe qua direttamente pare che non c'entrino niente nel senso non vengono mai nominate la storia di questo bambino che cerca il suo papà perché il papà da qualche giorno non torna a casa si sospettisce lui di solito fa il giro largo per andare dalla nonna invece questa volta taglia il bosco perché ha paura di tornare a casa quando il papà è già tornato e quindi di non vederlo rientrare invece poi troverà il papà a casa della nonna perché la nonna era malata e la situazione si risolve ma il modo in cui anthony brown gioca con i riferimenti testuali anche con i riferimenti immaginativi delle fiabe veramente molto molto interessante vi faccio gli ultimi l'ultimo esempio ultimo penultimo vediamo qui questo qui telefono senza fili è un altro silent book disegnato da moriconi l'idea invece di alan brendman questo è un silent in cui non c'entrano le fiabe nel senso la storia telefono senza fili sono tanti personaggi che si dicono in orecchia una parola vedete c'è il giullare e il re poi c'è il re e l'armatura ci sono tutti personaggi che si richiamano vicenda ma per richiami anche molto lontani in alcuni casi fino ad arrivare al palombaro il pirata il pappagallo il pappagallo l'indigeno l'indigeno eccolo qua l'indigeno e il turista ma dopo succede qualcosa di eccezionale il turista lo dice a questa signora che chissà forse sua moglie non lo sappiamo ma attenzione questa signora quello dice a questa vecchietta e la vecchietta a chi lo dirà mai questo segreto del telefono senza fili lo dice un lupo che però un lupo vestito da cappuccetto rosso e fatalità e lupo quello dirà il lupo che questa volta è vestito da nonna lo dirà ad una cappuccetto rosso vestita invece da ragazzina con la felpa che a sua volta lo dirà il calciatore e qui poi il cerchio in pratica si chiude come nel gioco del telefono senza fili la componente della fiaba non è una componente che dà origine alla storia su cui la storia si basa ma è una componente che viene utilizzata come elemento tra i tanti perché un elemento cui fa riferimento d'occhi chiusi chiudo con una versione di cappuccetto rosso che purtroppo non ho sotto mano da farvi vedere mandatela vedere quella di roberto innocenti in cui cappuccetto rosso ambientata ai giorni nostri e il lupo è un motociclista nero e cappuccetto una ragazzina in una periferia ed è davvero una lettura interessantissima come dire le fiabe ci possono raccontare ancora tanto parlano di noi l'hanno sempre fatto da centinaia d'anni hanno delle strutture che tornano e che si ripetono e questo vero ma sono strutture talmente consolidate con cui abbiamo fatto a livello culturale profondo talmente tanti conti che a un certo punto possiamo permetterci di rilaborarle e di giocarci sempre rispettando i tempi dei bambini e di ciascun bambino secondo le proprie abitudini e le proprie tendenze anche rispetto al piacere e alla paura che queste possono scatenare ci vediamo venerdì prossimo intanto buone fiabe a tutti